In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo. Libro II, Capo IX, Della Mancanza d'Ogni Conforto Non è difficile spregiare il conforto degli uomini quando si ha il conforto di Dio. È cosa grande e molto grande poter restare privi sì del Divino come dell'umano conforto, e volentieri, per onore di Dio, voler sostenere l'esilio del cuore e non cercare nulla noi medesimi, né far caso di ciò che possiamo aver fatto di bene. Che gran cosa se tu sei lieto e devoto quando viene la grazia! Desiderabile a tutti è quest'ora, assai facilmente cammina chi è portato dalla grazia di Dio. E qual meraviglia se non sente peso chi è portato dall'Onnipotente ed è guidato dal Condottiero Supremo. Volentieri cerchiamo qualche cosa che ci consoli, e difficilmente l'uomo si spoglia di sé medesimo. Il santo martire Lorenzo vinse il secolo col suo prelato, perché tutto ciò che nel mondo pareva dilettevole sprezzò, e per amore di Cristo sopportò benignamente che gli fosse tolto Sisto, sommo sacerdote di Dio che grandemente amava. Per amore del Creatore, pertanto, egli vinse l'amore dell'uomo, e dall'umano conforto preferì il beneplacito divino. Così impara tu pure a lasciare qualche intimo e diletto amico per amore di Dio. Ne ti sia grave l'essere abbandonato da un amico, sapendo che tutti dovremo, infine, separarci gli uni dagli altri. Molto e lungamente conviene che l'uomo combatta contro sé stesso, prima che impari a vincersi pienamente e da raccogliere in Dio ogni suo affetto. Quando l'uomo s'appoggia sopra sé stesso, facilmente si lascia trascinare alle consolazioni umane. Ma chi ama veramente Cristo e segue ardentemente la virtù, non s'arresta alle consolazioni, né cerca si fatte sensibili dolcezze, ma cerca sostenere per Cristo forti prove e duri travagli. Quando pertanto il Dio dà la consolazione spirituale, ricevi la con gratitudine, ma riconosci che è dono di Dio non merito tuo. Non ti insuperbire, non esultarne troppo, né trarne vana presunzione, ma diventa anzi più umile pel dono, più vigilante e più timorato in tutte le tue azioni, poiché passerà quell'ora e terrà dietro la tentazione. Quando la consolazione ti sarà tolta, non disperarti subito, ma con umiltà e pazienza aspetta la visitazione celeste, poiché Dio è potente a ridarti consolazione ancora più grande. Ciò non è cosa nuova, né sconosciuta a chi è esperto nella via del Signore, poiché nei grandi santi e negli antichi profeti ebbe luogo sovente una siffatta alternativa. Quindi è che taluno, mentre la grazia era presente, diceva, io dissi nella mia abbondanza, non sarò smosso in eterno, ma, allontanatisi la grazia, espone ciò che provò in sé stesso, dicendo, tu hai rivolto da me la tua faccia e Dio rimasi turbato. Però fra queste vicende non dispera, ma più ferventemente prega il Signore ed esclama, a te griderò, o Signore, e pregherò il mio Dio. Infine ottiene il frutto della sua preghiera ed attesta di essere stato esaudito, dicendo, il Signore mi ascoltò ed ebbe misericordia di me, il Signore si è fatto mio aiuto. Ma in che cosa? Cangiasti in gioia il mio pianto, egli dice, e mi circondasti di Letizia. Se così fu fatto coi grandi santi, non dobbiamo disperare noi, deboli e poverelli, se talora siamo ferventi e talora ci troviamo freddi, perché lo Spirito viene e va secondo che piace a Lui, dove dice il Santo Giobbe tu lo visiti al mattino e tosto lo metti alla prova. Su che cosa posso dunque sperare o in chi devo confidare se non nella sola grande misericordia di Dio e nella sola speranza della grazia celeste? Sianvi pure uomini buoni, devoti fratelli, amici fedeli, libri santi, bei trattati, canti soavi e dinni. Tutte queste cose giovano poco e poco le sento quando sono abbandonato dalla grazia e lasciato nella mia naturale povertà. Allora non v'è rimedio migliore che la pazienza e l'abnegazione di me stesso nella volontà di Dio. Non troverai nessuno così religioso e devoto il quale non abbia talvolta avuto sottrazione di grazia o sentito diminuzione di fervore. Né un santo fu così altamente rapito ed illuminato che prima o poi non sia stato tentato. Non è degno dell'alta contemplazione di Dio chi per Dio non fu esercitato con qualche tribolazione. La tentazione che precede suol'essere il segno della consolazione che viene dopo poiché la consolazione celeste viene promessa a coloro che sono provati con le tentazioni. A chi avrà vinto dice il Signore darò a mangiare dell'albero della vita. La consolazione divina è data affinché l'uomo sia più forte nel sostenere le avversità. Segue poi la tentazione affinché non si inorgoglisca del bene. Non dorme il demonio né la carme è ancora morta. Non cessar quindi dal prepararti alla battaglia perché a destra e a sinistra vi sono nemici che non riposano mai. In nomine Patris et Fili e Spiritus Santi. Amen.